Si lavora dietro gli avversari Edoardo lavora in questa metà campo Tu lavori in questa metà campo Lavoriamo con due palloni insieme, vedete il pallone? Prima regola nel calcio Si gioca da fermo in movimento? Ok, quindi quando aspetto un pallone è sempre meglio cercare di fare un movimento opposto a quello che realmente vorrei fare Così l'avversario mi segue e io cerco il mio spazio Quindi, io sono Giorgio, voglio giocare palla a Nikita Nikita cosa fa? Ok, chiama palla, riceve 1-2 con i compagni in mezzo saltando all'avversario e gioco dall'altra parte in una fila Da giocare di là Marco Via, parto Dietro, dietro, dietro Ok, gioco, come chiami? Pietro Pietro, Pietro cosa fai? Bravissimo, ok Pietro ha detto una parola giusta Ha detto 1-2 In English, 1-2 Sempre dietro gli avversari Quindi il mio avversario a saltare è questo Di nuovo, ricevo 1-2 con Ricky e salto il mio avversario Proviamo, difficile? No Ready? 3-2-1 Let's play Eccolo lì Eccolo lì Ora dietro gli avversari Se devo saltarlo Dai Via 1-1 Tu di spieghi e basta Per il filo Dai, 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 veloce E qua sono dei partiti Eccola, guarda che bravi Bravi campioni Proviamo? 3-2-1 Let's play Ok 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 Grazie a tutti.